Ciao cara amica, eccoci ritrovati a una nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi facciamo un vero e proprio recupero di un mobile già decorato. Come potete vedere questo cassetto che ho qua davanti a me è una parte di un cassettone che ho realizzato tantissimi anni fa, ma veramente più di 15 anni fa. Ed è il cassettone di casa mia, della camera delle mie figlie. Logicamente sono cresciute, non lo vogliono più rosa con le roselline che a me piace tanto tanto, ma lo vogliono tutto grigio e bianco in stile dry brush. Però questo bellissimo decoupage che comunque negli anni a retto si è ingiallito perché comunque 20 anni fa si utilizzavano delle vernici a solvente tipo il flatting se vi ricordate bene. Lo devo togliere, lo devo togliere per poterlo ridecorare completamente. Allora, iniziamo subito a vedere come poter lavorare e gli strumenti che servono. Per questo cassettone, per ritogliere questa lavorazione, serve questo tipo di strumento. Questo tipo di strumento, allora se avete gli sverniciatori ad aria calda a casa utilizzateli, però sono abbastanza pericolosi, state molto attenti. Questo è un embossing, quello che si utilizza per chi fa tipo stamping, per rimpicciolire le carte apposta, per alzare le polveri dell'embossing, per creare varie tecniche decorative nel mondo dello stamping. Io ce l'ho perché ogni tanto mi diverto anche a fare un po' di stamping, ma soprattutto è perfetto come easy sverniciatore per togliere la parte del decoupage che noi non vogliamo, non vogliamo più sui nostri mobili. Allora, prima di iniziare vi ricordo che potete sempre seguire le mie puntate sul mio canale YouTube, la Ravella Video, che potete seguirmi sulle mie pagine social, Instagram soprattutto, con tutte le storie adesso che funziona così, e il mio numero di WhatsApp per qualunque consiglio voi vogliate, cari amiche. Allora, adesso alzo il cassetto del cassettone e andiamo subito a vedere come si deve procedere per la parte della sverniciatura. Logicamente dovremo lavorare con tutte le riprese dall'alto perché così vedete bene come lavorare. Allora, mi metto su, mi sono, vedete come mi sono alzata, sono sulle punte, faccio un po' di esercizio. Allora, come potete vedere era un bellissimo decoupage, cioè, perfetto, un pochino devo essere onesta, mi piange il cuore, però le mie figlie non lo vogliono più. Quindi devo proprio rialzare tutta questa parte qua. Normalmente uno dice carteggia, ma se io vado a carteggiare vado esclusivamente a grattare, a rovinare la parte della carta, ma non alzo nulla. Come se vado a bagnare, faccio un pacciugo. Allora, con cosa si lavora? Si lavora, come dicevamo, con l'embossing e poi con varie spatole. Eccole qua, le spatole che ci serviranno. Intanto ne uso una. Purtroppo, per farvi vedere realmente com'è il lavoro, siamo comunque in un programma televisivo, cioè non è che vi faccio vedere la velocizzazione di quello che faccio. Quindi dovrete proprio guardare tutta la parte del riscaldamento e un po' di rumore. Allora, si parte dalla parte più esterna. Adesso sentirete il rumore dell'embossing. Mi raccomando, non ci dovete mai mettere le mani vicine. Non ve lo dovete mai puntare agli occhi. E soprattutto non è un phon. Non è un phon. E ai bimbi che mi stanno seguendo, perché io so che siete in tanti, questa cosa voi non la fate. No, 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 non la fate. Questa cosa qua la fa la mamma, la nonna, la zia, il papà, lo zio, ok? Ma non voi, mi raccomando, perché questo è uno strumentino un po' pericoloso. Allora, accendiamo e dobbiamo lasciare il tempo che il prodotto si scaldi e poi con la spatola lo andremo a scalzare. Allora, adesso chiedo a Mauro un po' di pazienza, perché ci sarà un po' di rumore. Iniziamo. Ecco, vedete? Proprio adesso vedete che la vernice qua, poi Mauro sarà bravissimo, ci farà una bella zoomatina. Si sta gonfiando. Nel momento in cui la nostra vernice si sta gonfiando, sta anche scollando la parte sotto. Ecco, guardate, guardate che meraviglia. Vedete che sta proprio alzando la carta. Allora, adesso io lo spengo un secondo, mi metto gli occhiali, non ci vedo più ragazze, non ci vedo assolutamente più. Guardate. Guardate che me lo sta tutto scollando. Io vado sotto con la spatola e vado a rialzare il tutto. Qua tolgo la parte della vernice. Avete visto? Quindi, dove posso, vado a rialzare il tutto. Se siete brave e non avete fretta, potete riuscire ad alzare tutto completamente il decoro e riutilizzarlo. Andiamo a scaldare ancora un po'. È un lavorettino lungo, eh. Allora, qui le spine ci fanno sempre tribulare. Ecco qui, vedete? Pezzettino per pezzettino andiamo a scalzare la nostra decorazione. Guardate, vedete che sono completamente sotto al mio decoro. Guardate che adesso, vedete che è spuntato dall'altra parte. Mauro, qua, guarda, te lo dico, davanti a tutte le amiche dovrai fare delle bellissime zoomate, eh. Perché è un lavorino fantastico. Allora, molte di voi, guardate. Guardate come si rialza perfettamente. Allora, so che l'embossic molte di voi lo hanno perché comunque, come, insomma, chi è creativo non fa solo una tecnica, ne fa tante. Poi comunque anche tutto il discorso delle, eh, dello stamping, tutta la parte, eh, del, del packaging. Dai, piace a tutte, a chi è che non, non piace, insomma. Eh, però, per chi non ce l'ha, sapete che me lo potete richiedere. Allora, andiamo a staccare, vedete, andiamo proprio sotto e vado a staccare. Questa è la lavorazione, si può dire, perfetta del nostro, eh, del nostro lavoro. Poi, logicamente, questa parte qua la dovremo tutta, la dovremo tutta andare a carteggiare e a lavorare, ok? Diciamo che a me non interessa tirare via la vernice. Mi interessa andare a piallare la parte del, del nostro, eh, gradino tra il colore e la vernice. Guardate l'originalità, l'originale della vernice com'era e il flatting in vent'anni quanto ha ingiallito, eh. Veramente tanta roba, eh. A questo punto dobbiamo semplicemente andare a smussare in questo modo la parte del nostro mobile e poi quando andremo a ridecorarci sopra con la, la ciolk, la mia ciolk by Laravella nella tonalità grigia perché poi ci faremo la, la decorazione con il dry brush diventerà tutto perfettamente liscio. Allora, adesso lasciatemi qualche minuto che in velocità vado a staccare il tutto per farvelo vedere terminato. Come potete vedere, cari amiche, ho quasi terminato il lavoro di scollaggio, chiamiamolo così, del mio decoupage. Chiedo a Mauro di mettere il riquadro e velocizzare il lavoro che ho fatto fino adesso, così ve lo spiego. È un lavorettino abbastanza lungo, bisogna lavorare con vari tipi di spatole, come potrete vedere, e ci sono dei punti un pochino difficili perché il decoupage non è un pezzo, non era un pezzo di carta solo attaccato, ma era bensì vari strati di carta. Quindi quando avevo più strati di carta, tipo nel punto questo qua che mi ha fatto tribulare molto, vedete nelle registrazioni qui in basso, alcuni punti ci ho lavorato veramente tanto. Come una parte molto molto difficile è quando rimane solo la carta bianca. Allora lì è veramente difficile da tirare via. Poi non sono riuscita a scollare tutto insieme, quindi a un certo punto ho cominciato a strappare la carta, ed è questa parte qui. Sono arrivata ad avere la base lavorata così. Mi manca l'ultimo pezzettino che guardiamo insieme. Allora, riaccendiamo il nostro sverniciatore e andiamo a togliere, bisogna lasciare un po' scaldare, andiamo a togliere questa parte qua. Ok, qui adesso io lo posso anche strappare via e vado a togliere, eccola qua, vedete? Quando riesco a infilarmi sotto, non scaldo da sopra ma scaldo sotto, guardate, viene via proprio come burro! Allora, vi ricordo che lo strumento che sto utilizzando è un embossing, che viene utilizzato per la decorazione nello stamping. Ok, vado a togliere l'ultima parte. Ecco qua. Prendo la spatola un po' più grande e vado a togliermi un po' anche di vernice, che sicuramente male non fa. Ecco qua. Vado a ridare una bella pulitina a tutto. Qua scaldo via un po' anche la vernice e la tiro via. Allora, chiedo a Mauro una bella zoomata in questa parte. Qui sono stata un po' troppo violenta io con la spatola e sono andata a rovinare la vernice, sono arrivata quasi al legno. Quindi questa parte qua, cioè queste parti di rovinate, il colore non è che me le vada a rimettere a posto, rimarranno. Adesso devo prendere la carta vetrata e darle una lavoratina così. Ecco qua. Ecco, logicamente oggi mi sono dimenticata il grembiule, ma ci vorrebbe. Andiamo a carteggiare il tutto per fare in modo che non ci sia gradino tra il colore e la vernice. Allora, il lavoro della parte di aver tolto il decoupage è terminata. Adesso posso fare due cose, o dare una leggera carteggiatina e poi andarci sopra con la chalk grigia che è la numero 7, o se proprio voglio essere precisa, brava, 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 scaldare anche un po' della vernice e tirare via un po' anche di vernice. Qua lascio a voi la decisione. La cosa importante di questo videocorso era proprio il discorso di farvi vedere come si toglie il vecchio decoupage, anche se bello, ma magari non più moderno, insomma, per cambiare un pochino lo stile. Come vedete ci sono delle parti molto rovinate, queste parti rimarranno nel nostro decoro. E poi ho dato una leggera carteggiatina con della carta vetrata per togliere un po' il gradino dove c'era la vernice e dove c'era la carta. Una lavata con acqua e aceto e adesso utilizzando la chalk numero 7, che è il grigio, la tonalità del grigio, andrò a colorare tutto per bene il nostro mobile. E poi lo termineremo con la tecnica del dry brush in bianco numero 17. Prima cosa che devo fare è andare a togliere i pomelli perché si tolgono tutte le parti in legno, in metallo, si tolgono. Andiamo a recuperare, che ce l'ho qua, il pennello velluto. Possiamo togliere anche i prodotti che ci serviranno. Allora sapete che questo è il pennello velluto per quando si stende il colore uniforme e il pennello asciutto invece è questo con la setola più dura per fare la tecnica del dry brush. Allora, prima di iniziare sempre, 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 sempre mescolare perfettamente il nostro colore. Allora, il colore non è che noi lo mescoliamo così, cioè si proprio arriva al fondo del barattolo, si gratta, si tira su, si stacca dalle pareti il colore, si mescola. Questo che siano confezioni piccole o che siano confezioni grandi. Mi raccomando, sapete che all'interno della mia pittura trovate sia la cera che il primer, quindi aderisce a tutte le superfici. Ma deve essere mescolato veramente molto, molto, molto bene. Ecco qua. Vi ricordo che è anche di produzione italiana, quindi io ci tengo sempre tanto, tanto, tanto a dirlo. Prendiamo il nostro barattolo, prendo, mi metto qua a favore di telecamera, prendo il pennello velluto, lo immergo in acqua, vedete che bello grondante di acqua, e lo strizzo bene a modo, le setole devono essere umide ma non devono essere, oh betè, non devono essere grondanti di acqua. Ecco qua. Prendiamo il colore e andiamo a stendere. Il primo strato, cari amiche, a me piace fare uno strato abbastanza tirato bene, ok? Il colore è semplicemente mescolato, come potete vedere va in copertura subito, immediatamente, ma il primo strato deve essere uno strato leggero, ben tirato, ok? Quindi, e soprattutto con il pennello avanti e indietro, allora, il colore è autolivellante, quindi non lascia il segno del pennello, ecco qui, e andiamo a stenderlo per bene in tutti i punti. Ricordatevi che il pennello ha varie facce, cioè ha questa faccia, questa faccia, ha i laterali e ha un centrale, quindi bisogna usare tutte le parti del pennello, ecco qua. Io adesso sto curando molto bene la parte superiore, poi dovrò curare anche tutti i bordini, questa parte qua, ok? Quindi, come potete vedere, io sto tirando bene il colore, qua picchietto, perché ci sono quelle parti più basse, dove c'è una sorta di solco, abbiamo completamente rovinato la nostra base, cioè lo stile shabby è il ripristino di un vecchio oggetto, quindi non è che deve essere per forza tutto perfetto, va benissimo che ci siano anche queste parti rovinate. Ricarico il mio pennello, ecco qua, io sto sempre un po' a tirarne via perché non è che devo andare giù con delle montagnette di colore, e applico per bene il tutto, ecco qui, perfetto. Questa è proprio la classica pennellata base per fare una decorazione. Anche le amiche che vi vengono, a cui facciamo anche, oltre che in presenza, anche i corsi online, devono comunque per fare i corsi avanzati arrivare con la stesura del colore in modo perfetto, ok? E se avete mai fatto dei corsi con me, lo facciamo insieme. Se siete invece già, avete già fatto dei corsi con me, potete già arrivare in questo modo per poter andare poi avanti con le varie tecniche. Questa parte qua sto lavorando di più con il pennello, con questa parte del pennello, perché c'è un piccolo gradino e quindi le setole mi devono entrare perfettamente nel gradino per poter applicare il colore. Però, come potete vedere, è una lavorazione molto veloce e soprattutto il colore è uniforme, è veramente uniforme. Allora, una confezione da 3,50 come questa fa circa 5 metri quadrati. Quindi, un cassettone, tre cassetti, tutta la parte esterna e la parte superiore, noi riusciamo a farla. Allora, giro un po' a mio favore, perché delle volte ci devo vedere anch'io per poter decorare. Facciamo questa parte qua, ecco qua. Ricontrollo bene la parte sopra, che non ci siano parti che mi sono dimenticata. Ecco qua. E adesso lascio asciugare a temperatura ambiente. Voi vi andate a bere un caffè, aspettiamo che tutto sia asciutto e poi continueremo a decorare il nostro mobile. Il tempo di un caffè, come vi dicevo, è la nostra prima mano di colore, è perfettamente asciutta. Riprendiamo il nostro pennello, bello sciacquato, quindi lo sciacquate dal colore vecchio. Andiamo a strizzare le nostre setole. Ok, logicamente se usavamo un altro colore lo dovevamo completamente pulire, ma adesso riutilizziamo il grigio. E andiamo a dare una seconda mano, ecco qua. La seconda mano è totalmente, va totalmente in copertura, ecco qua. E va a rendere completamente uniforme il nostro, la nostra base. Ecco qua. Andiamo a rifare subito anche i nostri bordini. E poi abbiamo detto che il nostro cassettone lo andiamo a fare in dry brush. Allora, io adesso per farvelo vedere, care amiche, lavoro subito. Però, come sarebbe la regola? Faccio tutta la colorazione su tutte le parti del cassettone. Quindi tutti i cassetti grigi, tutte le parti laterali grigie, il sopra grigio. Cioè, lo rendo tutto uniforme. Adesso mi date ancora qualche minuto per asciugare la seconda mano di colore. Allora, abbiamo asciugato anche la seconda mano. Adesso prendo il bianco latte, perché è quello che si sposa meglio, care amiche, nella decorazione. Cioè, il bianco ottico sì è bello se fai tutta una vetrina in bianco, shabby, ed è proprio uno shabby classico. Per un mobile, soprattutto per la camera di una ragazzina, utilizzando con sotto una base grigia, è sicuramente molto più bello un bianco latte, un bianco 17. Anche qui, mi raccomando, le confezioni, come sapete, ci sono da 125, 350, un litro. Ci possono essere anche confezioni da due litri e mezzo. Va sempre mescolato bene. Quindi si parte sempre dal fondo, si gratta bene. La parte secca che ci può essere intorno ai bordi si toglie, ok? Non si fa cadere nel barattolo, perché inevitabilmente il colore che non rimane all'interno del colore, cioè facendo questo brutto vizio di ripulire sul barattolo, la parte qua si secca, perché rimane a contatto con l'aria. Si asciuga e si secca. In quel caso si pulisce, cioè si tirano via le crosticine di colore, ok? Prendiamo il nostro pennello che troviamo all'interno del kit velluto, che è il pennello per il dry brush. Andiamo a lavorare così, quindi carichiamo bene il prodotto. Andiamo a pulire una faccia, due facce, tre, quattro e anche a taglio l'andiamo proprio a tirare via. A questo punto si parte sempre dalla parte esterna, attenzione a queste parti qua dei nostri chiodini. Partiamo e a una tirata unica andiamo a creare l'effetto dry brush. Logicamente tutte le parti rovinate del nostro mobile, come questa parte qua, dove noi comunque prima abbiamo grattato, quasi diventano ancora più evidenti. Ma questo, per questo tipo di mobile, a me piace tanto, perché è proprio lo stile del rogorio del tempo che va a mettere in evidenza tutti i particolari. Qui, apro una parentesi, so che molte di voi, care amiche, dopo aver visto e rivisto i miei video, fate, oltre che i vostri mobili, li fate per le vostre amiche, i vostri parenti, perché vi divertite. Allora, mi raccomando, questa cosa qua gliela dovete dire, perché? O sennò cominciano a dire, oh ma guarda lì hai rovinato, ma lì hai rovinato. Questo è questo stile, se tu non vuoi vedere queste parti rovinate, devi carteggiare totalmente la base sotto e la devi andare a levigare ed è totalmente un altro lavoro, ok, care amiche? Cioè il colore non va a togliere le imperfezioni della struttura sottostante. Ecco qui, questo è fondamentale ed è anche questo uno dei motivi che a me non piace fare i lavori per terzi. Ok, io vi insegno, ma quando lavori per altre persone hanno sempre delle storie assurde. Quindi è sicuramente la cosa migliore insegnare a farlo così si rendono conto delle problematiche che ci possono essere e poi noi stiamo facendo dello stile shabby. Ricordatevi che lo stile shabby non è una laccatura bianca, ok, ma è un recupero di un mobile ma lasciando sempre la parte del gusto del rovinato, del vissuto, va bene? Adesso subito anche qui andiamo a riprendere il bordo. Nell'andare a riprendere il bordo, io adesso ho fatto questo dietro che voi non avete visto, lo vado a riprendere qua. È normale che la parte interna sarà più grigia, però la parte che ribatte qui sopra sarà un pochino più bianca. Quindi anche qui dovete lavorarci sopra tanto, soprattutto vedete questa parte qua. E potete farlo sempre con il pennello, lavorandolo così, avete visto? Però mi sa che il nostro tempo ormai è terminato, care amiche. Io nel salutarvi vi ricordo di riguardare la prima parte di questo cassetto dove abbiamo lavorato con tolto tutto il decoupage che c'era qua centrale. Vi ricordo di seguirmi sulle mie pagine Instagram, Facebook, soprattutto il canale YouTube La Ravella Video dove potete rivedere tutte le mie puntate. Qui sotto il mio numero di telefono, se avete bisogno, più che telefonarmi, magari mandatemi un messaggio su WhatsApp, io rispondo sempre a tutte. Un saluto e alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao!